La russa, onorevole Molteni, prego. Grazie Presidente. Vede Presidente, se è legittimo porre la questione di fiducia, non abusare dello strumento della fiducia, cosa che è stata fatta in questi anni, se è legittimo chiedere la fiducia, Presidente, non è lecito porre una questione di fiducia su una riforma definita organica e strutturale del sistema penale. Non è lecito perché quello che si tocca con questa riforma sono elementi fondamentali e essenziali del sistema giustizia del nostro Paese. Presidente, su questo provvedimento erano stati depositati cento emendamenti, avremmo dovuto discutere di cento emendamenti, non tantissimi. Il gruppo della Lega aveva sette, otto emendamenti qualificanti su alcuni temi a noi particolarmente cari e sensibili. C'era tutto il modo, il tempo e lo spazio per consentire al Parlamento, su temi delicati, il tema della prescrizione, il tema delle intercettazioni, di poter discutere. Presidente, io credo che vi sia un grave vulnus politico, esattamente nel momento in cui, sul tema, ad esempio, delle intercettazioni, si approva la modifica delle intercettazioni con delega e con fiducia. Cosa sarebbe capitato se dieci anni fa un governo di centrodestra si fosse solo lontanamente immaginato sul tema delle intercettazioni telefoniche, tema particolarmente caldo in queste settimane, anche perché è legato ad alcune inchieste particolari, far sì che un tema tanto caro e tanto delicato non potesse essere affrontato e discusso in questo Parlamento. Si è detto che dobbiamo approvarla per fare fretta, perché va approvata velocemente. Voglio ricordare che questa riforma è rimasta bloccata, insabbiata al Senato per due anni, ed è rimasta insabbiata e bloccata, non per aggiustamenti tecnici, caro collega Verini, ma è stata bloccata per le divisioni all'interno della maggioranza, è stata bloccata per le divisioni all'interno del governo. Sappiamo benissimo che su questa riforma penale si sono consumati all'interno del governo, all'interno della maggioranza, tra il ministro Orlando e l'ex presidente del Consiglio Renzi, delle divisioni, delle spaccature, spaccature e divisioni che si sarebbero riversate ancora oggi e che avrebbero potuto anche magari far cadere questo governo, perché sappiamo che sulla giustizia sono caduti i governi, il tema della giustizia è un tema delicato e su questi temi i governi possono andare a casa. Oggi si sancisce in maniera chiara, indelebile, cristallina, trasparente, la debolezza, l'assoluta debolezza di questo governo e di questa maggioranza. E io credo che non sia accettabile prendere a schiaffi un Parlamento sul tema della giustizia. La giustizia, presidente, non è di destra né di sinistra. La giustizia è in nome del popolo italiano e il popolo italiano è sacrosanto, legittimo diritto che il Parlamento ne discuta in maniera seria. Oggi voi perdete una grande occasione, che è l'occasione di poter discutere seriamente in questo Parlamento di alcuni temi che i cittadini italiani stanno attendendo da anni con grande attenzione e con grande apprensione. Oggi voi segnate una pagina nera della giustizia e della democrazia di questo Paese e ne risponderete ovviamente al Paese.